Allora dai su, carica, gioco, carica, torna la schermata principale, dai Oh dai, giocatore singolo, eh, corso a tempo, ta 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 ta, cima, nell'ultimo, cima, nei moduli tecnici E poi, gotti per spazio, il capirato galattico, come lo chiamo io Molto bene, andiamo su, assebragio, che come avevo già detto una volta Quando l'ho fatta per la prima volta, mi ricorda molto engine, qui andiamo con engine, sì, con lo scienziato, un po' fuori, perché ho i missile in testa, esatto Non ho ancora capito qui come cocco, sia saltata, così, in aghe, che non c'è nessuna cosa per saltare, vabbè Comunque, dovevo dire, doveva essere tipo cocco, per l'appunto, che dovrebbe girare da dio, però di velocità è un po' strassio Però se vado bene lo uso, può fare il copy Ok, vediamo qui, lo vediamo bene a proposto Sì, gia bene, dai Gia normale, ecco Ah, vediamo come gia Sì, gia da dio, allora è tipo cocco Forse un po' meglio Ah No, aspetta, aspetta Oddio Ho visto il mondo, provatelo spazando come, veloce come flash Olè Neanche Egy dice tante robe, è quel che sento, non sento niente Sento solo la musica Ah Non dici niente Egy, no È muta Facciamo scena muta Tutto tutto, va bene Facciamo scena muta Se Egy vuol far scena muta Va bene Ok, questa l'ha sentita, mi sa L'ho sentita anch'io Tra l'ho sentito anch'io Dai, sì, però Dai Siamo andati da mezza adesso Siamo andati di mezza Quindi Anche lui alza il sedere quando salta Eh, ma proprio Avete saputo alzare il sedere quando salta l'alto Dai, facciamo un tempo che c'è anche qui Così No, e tutte le volte sta a fuccare bene per la sfaccatura No, solamente quando va a sbattere Barla Quando non capisce niente sta giusto No Appunto Dai, dai, sto facendo schifo Stiamo facendo schifo, vada Se dice che la musica, non viene con Se dice che la musica, non viene con Se dice che la musica, non viene con l'ho sentito Egy, va Cioè Non so voi, però Ultimo giro Dai, che stiamo facendo meno schifo che qui Dai, ho preso una scorciatoia Dai, quindi devo andare per forza a meno del proprio Perché quando poi ho preso la scorciatoia Vado a meno del proprio Quando, a volte Sento No, andiamo a sbattere con altre cose inesistenti Perché non sarebbe carine Non è gradito Aiuto! No, lui addirittura non so se se è in più o in più Sembra che Che vuole via dal cor Si tiene come Sembra che vuole via Ho fatto 3 minuti e 8 3 minuti e 39 centesimi Perché questo è solo il secondo posto nei tempi Mentre il primo cash Invece aveva fatto 0 Allora, dai, su carica Forse parlerà di più quando adesso, quando lo sfidiamo di te opere Praticamente ha fatto scena muta tutto il tempo, lui, vabbè Va bene, allora Ehm, dai, vediamo di ho fatto scena muta ancora, vabbè Che non è bello quando si fa scena muta Non è tanto bello Ehm, non è che mi piace tanto fare video scena muta Che sto cercando di non fare, infatti No, vabbè, non mi vengono da più di cosa parlare Ehm, io ce l'ho fatto di riscaldi Non mi vengono le idee di parlare No! Come non l'ho sbloccato? Non l'ho sbloccato troppi Non l'ho guardato Che cretiglia che sono Non l'ho guardato se l'avevo sbloccato Ma vaffan bene Cioè, prima ho dovuto riprovare Adesso devo riprovare perché non l'ho sbloccato Ma dai Cioè, senti Ma Solo perché non l'ho fatto un tempo Ma abbastanza No, ho fatto un tempo decente Visto che avevo avuto Perché se ne ho facciato un tempo decente Non si sbloccava Allora Ma io mi fido Che questa volta ce la faccio Oddio, oddio Adesso parla Prima non parlavi Oddio, oddio Ok E poi la voce di EGG è stranissima Cioè, vedi che a volte c'ha un Un certo tono di voce A volte c'era un altro Quindi vorrebbe E' stranissima Entra niente Zona lì Con le macchine Che non ho caricato più Io le chiamo Macine E' stranissima No, Uka Che no Che è piattolo maggiore di Uka Upa Eh, oddio I nomi I nomi aiuto Stavo dicendo Allora, il gruppo Codex Non c'ha Aku Aku Come maschera C'ha la loro maschera Che è Uka Upa Che è solitamente Il cattivo Uno dei Ma ciò che è per oggi Ah, ecco quello che aveva detto Che è appunto Uno dei Antagonisti principali Del piattolo Oddio 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 Chi è il Il piattolo minore di Aku Aku E a differenza di Aku Che ci console E ci dice La prossima volta Lui ci dice su Non l'avreste mai Non l'avreste mai detto Perché lei Facci Mette la calma Però quando perdiamo E' contento Ma proprio E' male fatto in persona Perché appunto Teoricamente E' in male fatto in persona Più veloce Più veloce Però devi stare calmo Vabbè Sembra un po' Bé Quando faccio Tipo Le guide Così Con le L'intipso Gatturismo Ultimo giro Dai Non deludemi Non deludemi Non deludemi Comunque Lo stesso è bellissimo No Non tradirmi Play Non mi tradire No Ti puoi Ho visto le cibagasse per un attimo No è stato orribile Ancora 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 Andiamo 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 Ancora 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 Cosa vuoi Ancora Il turbo Ti prego Dimmi Che ha sbloccato Qualcuno Oh No 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 Rimetti No Rimetti No Ok Io non Ho nessun Tinei Non lascio il nome Come al solito Molto bene Sì Sì Anche Vabbè A tenere Ma Allora Non vorrei dire Ma io pensavo Che almeno Tu le tenevi Da maniera Di settimane Ti tieni così Ti tieni così È sempre Cioè La mano Io Tengo così Quando Ti fai Quando L'orologio Faccio Così Così Perché Non ho voglia Di fare Il pugno Non ho voglia Ritenere La mano Non ho voglia Ritenere La mano Ma la morte Non ho Ritenere Vuoi Il pugno Quindi faccio Così A metà Via Ma no Non voglio Di Ho fatto Tre minuti Due Comunque Ho fatto Tre minuti Due Ok Quanto Hai fatto Tu 2 58 Vediamo Che Andano Meglio Eh Vediamo Cascare Perché Perché Sono Cascato Altrimenti Aveva Fatto Meglio Allora Carica Allora Ecco Non so Se Vole Vedete La Facce Comunque Vabbè Lui Non Aveva Neanche Fatto Il Turbo Per Farlo Io Sì Guardate Che Maria Di Però Ce l'abbiamo Dietro La stessa Come No Non riesco A capire Quello Che dice Comunque Io Non mi faccio Mai Da parte Signore Io Non mi faccio Mai Da parte Perché Io Sono La Capione Di Tu Mi Frega Un'altra Vota Capite Ci siamo Intesi Niente Un'altra 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 Un personaggio C'è Quando lo scelgo A volte O Facce Un pallone si sente un pallone? ah ok si sente un pallone? beh effettivamente serve un po' a poter stare qualcuno potrebbe darti il pallone per il trasporto fisico però va bene no niente poi sei in giro dai niente poi in giro siamo qui per maggiore velocità vabbè dice più che altro ha fissato con velocità più veloce vabbè più veloce oddio io sul del turismo oddio io ma no lo dico io perché è più veloce vabbè ma fino a quella che diceva più veloce lo sta solamente io vabbè prima guarda la possibilità assemblaggio e ho scelto qui lui ecco un po' ancora di turbo lui ha voglia lui lui mangia in turbo ancora il suo ragazzi ha voglia di più turbo e quindi te lo diamo da bippa guarda tieni come 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 delle cose da mangiare dai lo stiamo battendo alla granza in troppi eh guarda il signore del tempo era lui si credeva veloce però è veroce ma sono veloce però per questa volta questa volta più veloce sono io come solito anche se effettivamente mi aveva battuto mi aveva battuto mi aveva battuto eh però ok è l'abbiamo fatto ok posto 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 proprio ho fatto 10 secondi in meno c'è perché la roba lì cos'è allora ho capito fango cioè la tiene la tiene così ma perché perché non chiudi le mani fermiamo un attimo